Ciao a tutti, benvenuti e bentornati, io sono Chiara. Come per l'anno scorso, oggi vi voglio proporre il video dei top 2017 che ho racchiuso in questa box. Sono tantissimi prodotti, a differenza dell'anno scorso vado oltre 10 prodotti. È un video che ho fatto per la prima volta nel 2016 su vostra richiesta e ho deciso di riproporlo quest'anno perché è un modo come un altro per raccontarvi di alcuni prodotti che qui su YouTube non ho assolutamente menzionato mentre altri sì. Per alcuni di essi ho già fatto della review e nel caso troverete il link giù nell'info box in modo che voi possiate andare ad approfondire l'argomento perché fare una review completa su tutti i prodotti comporterebbe un video estremamente lungo e impegnativo e forse anche un pochino noioso. Quindi vi accenerò di un po' di tutto e poi nel caso aprite l'info box e trovate il link diretto in caso di review. Ho diviso i prodotti in categoria e la prima categoria di cui vi parlo è l'aircare. Allora, il 2017 è stato l'anno della prova di tantissimi prodotti per quanto riguarda sia lo styling che il lavaggio, le maschere, i balsami, ho provato tantissimi di qualsiasi tipo. È sicuramente un prodotto che promuova pieni voti, che ho testato grazie proprio all'azienda che poi ho riacquistato, è la maschera ristrutturante l'Intense di Biomarina. Questa maschera che io applico una volta a settimana su capello asciutto, pre-shampoo quindi, sulle lunghezze e la lascio in posa da un minimo di 15 minuti a un massimo di mezz'ora. Ciò che ho verificato nel corso di mesi, quindi nel corso dell'applicazione, è un capello più disciplinato, morbido, lucente, ma soprattutto minor formazione di doppie punte. Quindi è una maschera che davvero va a lavorare sulla corposità, sulla salute del capello. Per quanto riguarda gli shampoo, allora, voi dovete sapere per chi è nuovo che il mio ha un capello trattato, perché due o tre volte all'anno vado dal parrucchiere e faccio i colpi di luci e la tonalizzazione, come in questo caso. Il mio ha un capello riccio, fine, tendente al crespo, tranne oggi che mi sono fatta una piega liscia. Lo shampoo lo faccio due volte a settimana, alternando uno shampoo se vuole equilibrante e uno shampoo idratante o per capelli colorati. Questo perché? Perché cerco di andare sempre a trovare un giusto equilibrio per tenere il cuoio capelluto pulito, purificato, privo di sudore, sporco, sebo, inquilamento, eccetera, in modo da favorire la nascita di nuovi capelli, tenere il bulbo pulifero più possibile libero per respirare. Ma cerco anche idratazione e in alcuni casi utilizzo anche dei prodotti per capelli colorati, mantenere il colore vivo. Per quanto riguarda i capelli, l'assevo, per quanto riguarda i shampoo seporequilibranti, ne ho due da indicare. Sicuramente promuovo a pieni voti, infatti li ho racquistato, della linea Miglio Plus di Dottor Taffi, lo shampoo rosmarino lavanda. È indicato in particolar modo per i capelli con forfora e prurito, ma in realtà è ottimo proprio per come anticaduta e come purificazione, rimanendo però un prodotto comunque delicato, quindi non aggredisce il cuoio capelluto, non ve lo secca assolutamente, anche perché io non ho un cuoio capelluto grasso. È solo una mia esigenza, dato che comunque abito in un posto abbastanza inquinato, faccio sport all'aria aperta, cercare di trovare un mix, un buon compromesso per la salute dei miei capelli. È un altro prodotto che promuovo a pieni voti, è il Balance, lo shampoo normalizzante di Biomarina. Questo è ancora più delicato del rosmarino lavanda di Dottor Taffi, però riesce a purificare bene il capello. Entrambi non mi annodano il capello. Per quanto riguarda i balsami, in realtà io utilizzo sempre dei balsami idrotanti, dei balsami belli ricchi che mi possano però aiutare nella pettinabilità del capello sotto la doccia. Quindi non ho un balsamo, un shampoo particolare di cui parlarvi. Mentre per i capelli colorati sicuramente vi menziono due prodotti. I due prodotti che vi voglio menzionare sono di Tecnia, sono della linea Tecnia, l'Acme, sono la linea viola per capelli bionti, anti-giallo, lo shampoo e il conditioner. L'obiettivo è quello di eliminare il giallo che si viene a formare pian piano in fase di scaricamento del colore, andare a idratarli, a nutrirli donando brillantezza. Questi li utilizzo una volta a settimana, normalmente la domenica, e quando faccio il colore dopo due o tre shampoo. In modo proprio da evitare la formazione del giallo. Devo dire che funzionano e sono state anche provate da mia mamma. Mia mamma ama tantissimo il balsamo, il conditioner. La linea L'Acme è una linea professionale che viene venduta in Italia dai parrucchieri appunto che utilizzano la linea L'Acme, il brand L'Acme, oppure in un sito che vi lascerò giù nell'info box, perché così se volete andare a vedere vari prodotti potete. Perché un altro prodotto di cui vi voglio parlare è di L'Acme, appartiene alla linea Wings, quindi per capelli ricci, ed è una crema per capelli ricci, quindi per lo styling, livello fissaggio 2, quindi ha un livello fissaggio morbido. A me piace perché protegge il capello durante la fase di styling, quindi dal calore del phon, mantiene un bel riccio, evita il crespo, ma soprattutto non crea un riccio duro, ma estremamente morbido che dura per diversi giorni. Poi l'altro prodotto in cui vi voglio parlare è un prodotto che mi ha fatto tantissimo ricredere per quanto riguarda gli shampoo e i balsami di Biofficina Toscana. Non me ne vogliate, signori di Biofficina Toscana, però con i vari campioncini che avevo provato non mi ero quasi mai trovata molto bene. Mentre con questo sì, infatti l'ho utilizzato anche in fase di piega, oggi, ed è il balsamo senza risciacqua di Biofficina Toscana, un balsamo in spray, che utilizzo per lo styling, quindi dopo che mi sono lavati i capelli, li ho tamponati, sulle lunghezze vado ad applicare una noce di questo prodotto, quando voglio fare la piega liscia, perché mi va a togliere il crespo, a disciplinarli, a nutrirli e al contempo stesso mi crea una sorta di protezione dal calore del phon e quindi anche nel movimento di styling, di lisciaggio con la spazzola. È un prodotto che promuovo, prodotto Bio, naturale, italiano, certificato, che mi piace assolutamente. Passando alla skincare, il 2017 è stato l'anno in cui ho provato tantissimi sieri, viso, perché il siero è entrato davvero a far parte della mia skincare, è l'irrinunciabile della mia skincare routine, soprattutto dopo la detersione. Ne ho provati tanti, diversi, promuovo a pieni voti il siero, riequilibriante Bioficina Toscana, che riacquisterò per la primavera estate, perché è stato quel siero che mi ha permesso di evitare che la mia pelle si lucidasse, ma al contempo stesso si secasse e riducesse la formazione di impurità. Perché dico questo? Perché io ho una pelle mista, ma estremamente sensibile. Il misto è solamente nella zona T e in certi periodi del mese. È una pelle molto sensibile che necessita di idratazione e riequilibrio. Ed è ciò che mi ha dato il siero di Bioficina Toscana, preparando la pelle e poi la crema. Per quanto invece riguarda la skincare propria, in primavera sono stata scelta come ambasciatrice per Caudalie, per testare un nuovo prodotto che è della linea Vino Perfect, che è Le Sons Concentre Eclat. Io la chiamo Tonico. La Vino è la... per farmi un po' capire. La linea Vino Perfect di Caudalie è una linea sicuramente per le donne da 30 anni in su. È una linea antimacchia che dona luminosità al volto, idratandola alla perfezione. E io ho provato tutto della linea Vino Perfect, ad eccezione delle BB Cream. Mi sono trovata benissimo appunto con questo tonico, tra virgolette, con il siero, con la crema viso che è un SPF 15, ma soprattutto con la crema notte. Sono stati prodotti che letteralmente mi hanno stupito, tant'è che con le Black Friday ho acquistato questo cofanetto che ha all'interno l'Essenze Concentre Eclat, il siero in full size, perché Le Sons Concentre Eclat, che è questo qui, è mini-size da 50 ml, come la crema notte, che è una mini-size da 15 ml, mentre questo, che è un 30 ml, è esattamente in full size. La crema è il tonico, il siero, diciamo, luminoso, di luminosità, in full size è un 200 ml, se non ricordo male, mentre la crema notte è un 40 ml. Comunque sono delle belle taglie, e l'ho ripreso perché sono prodotti che ho amato, è la follia, e che li utilizzerò appena finisco alcuni miei prodotti di skin care. Passando al make-up, io sono una grande amante del make-up, ma le mie finanze non mi permettono di acquistare tutto ciò che vorrei. Soprattutto a fine anno ho visto delle cose, di alcune collezioni, anche per dire di Nabla, di Purubio, che mi piacevano, ero tentata, e di Mulac, assolutamente anche di Mulac, ma non potevo. Quindi non ho grandissimi prodotti in cui parlarvi, però vi voglio menzionare il Soft Glow Foundation, con SPF 15 di Labo Suisse, quindi è una linea, un brand che si trova in farmacie convenzionate, ha un fondotinta liquido, iperidratante, però che non appesantisce la pelle, la uniforma, ed è stratificabile perché cerca comunque una coprenza abbastanza alta, perché comunque questa ha una coprenza medio-bassa. SPF 15, quindi protegge anche le raggi solari. Questo è in un'edizione limitata, però sono certa che la Blows Suisse per la linea Makeup ha diverse cose molto molto interessanti. E vi voglio menzionare, ovviamente, gli amatissimi smalti Fabi, io adoro la famiglia Fabi, fa delle collezioni stratosferiche, ha dei colori magnifici, però vi voglio parlare di Fabi Nature, che è la linea 100% naturale, il cui colore è ottenuto lavorando degli ingredienti che si trovano in natura, frutta, verdura, grani e quant'altro. Fabi è un'azienda italiana e mi faceva piacere parlarvene, perché comunque sono sempre dell'opinione che bisogna un po' sempre menzionare, e le aziende che lavorano bene e che sanno anche differenziarsi all'interno di un mondo molto grande come la Nel Care. Dato però prodotti di qualità che non dalleggiano le unghia, perché tutti i loro smalti sono time free, quindi privi di 10 schifezze. Body Care, la linea, per quanto riguarda il corpo, allora, non vi menziono un bagno schiuma, perché ne ho provati tantissimi, tantissimi ne ho promossi nei vari top e flop del periodo, per quanto riguarda invece i fluidi corpo, sicuramente promuovo, e nel caso in cui avrò questo problema la prossima estate, lo acquisterò, la Body Lotion di Ieso Cosmetics non è studiata per il mio caso, ma leggendo gli ingredienti in quel periodo che stavo vivendo, è stata una manna santa, perché ho sofferto le dermatite seborroiche all'estate, e quel prodotto mi ha aiutato, ha alleviato il prurito, ha alleviato i rassori, ha ridotto la formazione di questa dermatite, ma ha letteralmente aiutato. Ovviamente non solo quello, ma quello ha permesso di mantenere la pelle del corpo idratata senza accentuare la dermatite. E l'ho anche detto all'azienda, perché ero letteralmente entusiasta di quella scoperta, tra virgolette, che avessi fatto. Mentre per quanto riguarda le mani, ho provato tantissime prime mani, ma sicuramente quelle da menzionare, sono le bretta portè di maternatura, quindi queste mini size, nate, presentate al Sala 2016, in 5 diverse, se non erro, 5 diverse profumazioni, sono tutte assolutamente ottime, buone all'idratazione, anche se a mio avviso è un pochino bassa per l'inverno, ma perfette dalla primavera all'autunno. Certificate IAB, e ovviamente sono naturalissime. Come puoi, non posso fare a meno della crema piedi di Delarom, dalla lieve fragranza di lavanda, idrata alla perfezione il piede, evita la formazione di medicina, che si secca il tallone, e poi ha questa profumazione di lavanda, che a me piace tanto, perché rilassa. A soltanto invece riguarda la cura delle labbra, sicuramente promuovo il Balsamolal Labbra, della linea Sticker, di Latte Luna, come poi promuovo il Via Dolci Labbra, di Alchemilla, però nella versione, è assolutamente cannella e torta di mele. entrambi questi Balsamolal Labbra, quindi quello di Latte Luna e quello di Alchemilla, sono Balsamolal Labbra estremamente idratanti, a un prezzo abbordabile, e hanno quella nota profumata, che ti avvolge e ti coccola, quindi sono prodotti che amo assolutamente per questo, massima idratazione e coccole. Come poi promuovo di Latte Luna, il profumo solido nella profumazione rose e vaniglia, perché unisce questo profumo, due delle profumazioni che amo di più, che sono fresche e dolce al contempo stesso. È un burro, principalmente, si va a prelevare col polpastrello, lo si scalda, dopodiché lo si massaggia dietro le orecchie, volendo tra le clavicole e sui polsi. E per una nota in più profumata, io spesso lo posso anche sulle lunghezze dei capelli, perché essendo comunque ricco di burro e oli, idrata il capello. Su di me dura tantissime ore, e io lo sento, sento. È questa profumazione dolce e fresca al contempo stesso, che davvero amo la follia. Come poi promuovo tra i due duranti naturali, il Roll On di Veleda. Io l'utilizzo nella profumazione melograno. È un Roll On che idrata le ascelle, rinfresca, non brucia assolutamente neanche post-rasatura, ma soprattutto tiene a base al cattivo odore da sudorazione. Amo anche della linea di Veleda, le loro acque profumate, perché sono fresche, avvolgenti, a volte sono frizzanti, dipende un po' dalla profumazione che scegliete, ma sono acque profumate che ti avvolgono e le senti per diverse ore. Tra gli extra prodotti, vi voglio parlare di due solari, fasce di prezzo differenti, reperibilità differente, uno in farmacia, l'altro nella grande distribuzione. Parlo della crema viso SPF 50 di Bionike, che è una crema viso corposa, ma facile da lavorare, non unge assolutamente la pelle del viso e la protegge dal sole. E lo spray SPF 50 di L'Ovea, spray che secondo me è ottimo per tutta la famiglia, perché è comodo, lo si spruzza, poi lo si massaggia, ed è comodo sia per gli adulti che per i bambini. È vero, io la scorsa estate non mi sono abbronzata, ma avevo la necessità di proteggere la pelle del viso e del corpo, dal sole, perché comunque bruciava tantissimo. E ciò che ho ottenuto è stato esattamente questo. Soffrendo io comunque di dermatiti, scottandomi, eccetera, il risultato l'ho ottenuto. Altro extra di cui vi voglio parlare e non ai beauty sono le candele Earth in Dome. Queste candele a base di soia, a base di cera di soia, quindi un prodotto naturale. Non sono cera 100% naturali, ma sicuramente sono meno nocive e meno dannose di tante altre candele in commercio. Si trovano nella versione piccina, media e grande, quindi piccina, questa qui la si mette in un vasetto e poi ce n'è una jar media e grande. Profumano l'ambiente, sia da spente che da accese. Sono favolose. Ultimo extra di cui vi voglio parlare, che davvero mi ha rivoluzionato la mia routine del make-up, che mi ha dato nuova luce allo sguardo, è il microblading. Quindi questa tecnica di disegno e ricostruzione delle sopracciglia pelo per pelo. Vi farò un video aggiornamento, dato che comunque il video che feci sul microblading è stravisto tutte le settimane. Farò un video di aggiornamento parlandovi del microblading e del micro shading e di come mi sono trovata con l'unione di queste due tecniche. Sperando così di suzzicare il vostro interesse, togliervi dei dubbi e conoscere comunque una nuova tecnica di, tra virgolette, trucco permanente. Allora, questi sono stati i miei top 2017. Ho fatto una carrellata veloce. Spero di avervi, con questo video, tenuto compagnia, ma con la carrellata veloce, avervi stuzzicato un pochino di interesse su alcuni prodotti che magari tenavate d'occhio già da un po'. Vi invito a lasciare un pollicino in su e a dirvi nei commenti quali sono stati i vostri prodotti top 2017 perché magari sarete proprio voi a farmi scoprire un nuovo prodotto o dei nuovi prodotti, perché no? Vi invito anche ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto ed attivare la campanella che servirà a YouTube per notificarvi ogni qua volta ci sarà qui sul canale un nuovo video. Io vi mando un mega bacio, grazie per aver visto il video, grazie per la compagnia e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao! Iscriviti al canale